Solo lo scorso weekend era morto un cercatore di funghi ed un altro era finito in coma, proprio a causa della passione per i miceti, a cui vanno aggiunti altri morti e feriti che dalla fine di agosto, con l'inizio delle piogge e l'abbassamento delle temperature, vengono registrati quasi quotidianamente in tutto il territorio della provincia, un bilancio già drammatico aggravato ulteriormente da altre due vittime decedute nell'ultimo fine settimana. La prima è Mario Bertuletti, 66 anni, di Abadi Alariana, uscito da solo sabato per i boschi della Valgerola, non ha fatto più rientro a casa. La famiglia inizialmente aveva pensato che l'uomo avesse scelto di fermarsi in montagna a dormire, dato che possiede una baita in zona nel comune di Cosio Valtellino, ma il mattino successivo ancora non era reperibile. Giunta sul posto la figlia, trovata la baita vuota, è stata lei a lanciare l'allarme nella tarda mattinata di domenica, immediata la mobilitazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, con 20 uomini della stazione di Morbegno e 5 unità cinofile del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti ad individuare il 66enne, infonda un dirupo a circa 150 metri in una zona impervia nei pressi dell'Alpe Tagliata, 1.250 metri di quota. Il corpo è stato recuperato dai tecnici sotto la pioggia battente, con il sistema del contrappeso per 250 metri su un terreno scivoloso e scosceso. L'operazione si è conclusa solo nel tardo pomeriggio. A distanza di poche ore, un altro cercatore di funghi, Lorenzo Andreoli, 64enne di Samolaco, ha perso la vita in località Pajedo-Sambusina in Val Chiavenna. L'uomo stava percorrendo un traverso lungo la destra orografica della Valle del Mera, quando è scivolato lungo un versante ripido per un'ottantina di metri, una caduta che si è rivelata purtroppo fatale. I soccorritori lo hanno individuato e recuperato a notte inoltratta e sotto la pioggia. Meglio è andata ad una 77enne di vendrogno in Valsassina, che sabato era uscito in cerca di funghi con un amico e il figlio nei boschi sopra a Samolaco, prendendo però ciascuno direzioni diverse. Ad un certo punto il 77enne si è trovato solo e disorientato ed ha chiesto aiuto con il cellulare che aveva con sé. Individuato dai tecnici del soccorso alpino in località Borlasca, a un'altitudine di 1.350 metri, fortunatamente illeso, l'anziano è stato riaccompagnato a Valle dei Tecnici.